Molfetta, Mon Amour, straordinaria città. La mia Amsterdam delle Puglie. Quante volte ho cercato di dipingerti, ma sei sempre difficile, ma ugualmente interessante. Ma dove stanno i pittori? Perché non si dipinge un paesaggio così? Farei tanti di quegli studi, di sera, di giorno, a qualsiasi ora, suggestioni incredibili. Tutto questo me li porto sempre con me, come studi, come osservazione. Ho tutto nella mia testa, queste sensazioni, queste emozioni. Veramente straordinarie. Le atmosfere notturne sono straordinarie. La notte è piena di sensazioni, nuove anche. Le barche, che grande atmosfera. Mi creano veramente emozioni. Vorrei sempre stare qui a dipingere, a catturare queste impressioni. Mi manca il tempo. Il tempo a volte nemico di tante cose che vorrei fare. Però, ugualmente, Molfetta, ti ho dipinto tante volte, in tante occasioni, nelle varie luci della giornata. Ma c'è tanto ancora da fare. Qualche cosa sono riuscito a catturare, ma è sempre poco. Le sensazioni sono notevoli. Io cerco di avvicinarmi, ma è sempre difficile. La più affascinante città della Puglia che io conosco. Non sto esagerando, ma è così. Devo ancora fare tanto. Vorrei ancora catturare delle impressioni nuove, soprattutto quelle notturne. Mi manchi molto Molfetta, soprattutto quando sono a Milano. Sì, è vero. Sono assetato di catturare queste impressioni. C'è tanto da fare. Tanto, tanto. Vorrei iniziare, ma il tempo è nemico. Veramente nemico. A volte mi sento prigioniero. Mi sento prigioniero e vorrei essere più libero. Vorrei avere sempre il tempo per affrontare questi temi, questo tema veramente affascinante. Però i Cieli Stellate sono anche un omaggio alla mia terra. Forza Irsina, il paese di mio padre. Sì, sotto il paesaggio è anche una striscia di terra. Allude sempre a quel territorio murgiano. Il cielo stellato è un canto di questo luogo. È un canto mio, è un canto molto personale. Le stelle sono a festeggiare questo luogo. Far sentire la purezza, la bellezza, la solitudine di questo meraviglioso luogo, che è dentro di me anche. Mi viene sempre in mente la mostra del Torrione, quando sono a Molfetta, che era sul tema delle gravine. 2008. I lavori partivano dal 1978 al 2008. Una mostra nuova, originale, che volevo presentare a Molfetta, alla mia città, ai miei amici, ai miei collezionisti. Io ho sempre trovati vicini al mio lavoro e hanno sempre avvertito, nei miei studi, una verità. Le barche qui hanno una loro storia. Io sono tra l'altro figlio di marinai. I miei nonni materni avevano una grande barca. Io sono un po' figlio di mare e terra. Mia madre di Molfetta, Gaudio. Mio padre di Irsina. Conservo con il cuore questi due luoghi. Sì, vi amo tutti e due. Quando vedo le barche, vedo che c'è sempre una storia dentro, tra il marinaio e il mare. Mi sono sempre appassionato. Ho fatto diversi studi. Sì, Molfetta ti ho dipinta per diverso tempo, ma c'è ancora tanto da fare. Lo so, il tempo è nemico, tanto nemico. E io a volte perdo tempo ad altre cose che possono essere anche inutili. Questo tema è pieno di emozioni, attraverso le varie luci della giornata. Oggi passeggiavo nel centro storico e ho visto queste mura, questa pietra, il torione, il duomo, via piazza, la muraglia. Che grande cosa, che bellezza. Non posso essere freddo davanti a questa emozione. Vorrei solo invece cercare di catturare ancora qualche studio, tenerlo dentro di me, per creare nuove sensazioni, nuove emozioni dentro di me, ma per trasmettere anche attraverso la mia pittura verso gli altri. Sì, devo cercare di dire un po' la verità di quello che vedo. Non devo bleffare. La verità sta poi nella pittura, nella costruzione, nella conoscenza. E questo è avvenuto in più di 35 anni di esperienza in plein air e continuo ancora a essere affamato di questi appunti, di queste sensazioni. Mi chiedo i pittori perché non si fermano davanti a questi studi sulla natura. Dico alla fine, peggio per loro. Sono contento e ne esco anche fortificato attraverso questi studi incessanti. Vorrei tanto consigliarlo ai giovani. Per loro è difficile intraprendere questa via perché ci vuole amore e tempo. tanto tempo, tanto tempo. La mostra del Torrione Passeri è stata organizzata dalla Depart di Milano, dove mio figlio Antonio è stato di grande aiuto. È protagonista anche di questa costruzione della mostra, del catalogo. L'ha voluto lui con interesse, ma anche e soprattutto con amore. Ha capito che questo tema era il tema che ho sviluppato meglio, forse degli altri temi affrontati in passato. Come oggi lui mi segue attentamente. Il tema che dipingo da 11 anni è quello dei cieli stellati, dove in questo periodo, in questo anno, in questo mese, è presente alla Depart questa serie di nuovi cieli stellati, dove ho omaggiato Dante Alighieri con un grande dipinto di 4,5 metri per 2,80 metri con il titolo a rivedere le stelle. Ci tenevo a farlo, questo quadro, perché sono dentro da 11 anni su questo tema delle stelle, dei cieli stellati. Mio figlio, con altrettanto amore, segue questa mia produzione. E lui per primo è il primo spettatore, mio mercante, mio gestore di questa tematica. Grazie. 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 Grazie.